Margiela, 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 Margiela is the new Balenci, 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 Balenci di Uzi Bella a tutti i miei slime qui al, bentornati nel mio canale Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo a reagire a Respawn di Freeman Che poi non sarebbe altro che una deluxe edition del suo primo album ufficiale Che appunto è stato Mainframe, uscito circa 3-4 mesi fa Un solo singolo estratto che sarebbe poi Sport Mode, traccia uscita anche con annesso video su YouTube Vi consiglio di recuperarlo nel caso in cui non l'aveste visto perché è davvero fatto bene Io direi di partire dalla prima traccia di questa deluxe edition, Ruthless Ma che cazzo di effetti Una prima traccia in pieno stile poi Mainframe Nel senso che rispecchia tutto il sound che ha praticamente quell'album Produzione di Moz che ha curato anche in questo caso la deluxe edition così come il disco ufficiale E che dire, non ho capito ogni singola parte, devo riascoltarla col testo sotto Ma il sound è sempre littissimo Un minuto di canzone, ci sta come intro, vediamo come prosegue il progetto Seconda traccia, che faresti? Un minuto di canzone Un minuto di canzone, sono sicuro Broder ti vedo un po' strano Mi chiede perché l'ho fatto Ma non mi becchi ma lecchi Ehi Senza di me che faresti Ehi Senza di me che faresti Ma tu mi hai lasciato solo Non avevo tutto Pensavo di metterci dentro di tutto E se sta bispo di a pensare sia giusto Dimmi perché hai paura Non ti farei mai del male Ok Bello ritornello Non potevo non aggiungere alla playlist Come sempre il link in descrizione Questa mi è piaciuta tantissimo Il beat a sto giro è ancora più bello Già dello standard normale Veramente mi ha impressionato Sento un po' di vibes di Carty e di Uzi allo stesso tempo E vi dirò di più Freeman è uno, forse l'unico rapper in Italia Che comunque si sente che è molto influenzato da Carty Ma allo stesso modo è l'unico che riesco ad ascoltare Perché il resto mi sembra tutto un copia e incolla E anche questa traccia Ripeto Si sente molto l'ispirazione di questi due artisti Ma comunque riesce sempre a farla Alla sua maniera E appunto per quello che ho sentito fino ad ora In Italia è uno dei pochissimi che comunque riesce a differenziarsi Passiamo alla terza traccia Dzeko Oh ma che è sto beat Mamma mia Questa è stata anche prodotta da Freeman Infatti alla fine si sente il suo tag E così come la quinta traccia Sono le uniche due coprod Cioè sempre moz in mezzo Ma affiancato da un altro produttore Forse ho detto una cazzata Aspettate un po' Si ho appena controllato la quinta anche coprod Freeman E la seconda quella che abbiamo ascoltato prima Coprod Herbie Comunque Bella Figa 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 C'è stato un drop a metà canzone Che proprio mi ha fatto entrare in un altro universo Sound Sempre littissimo Io non so più come definirlo Ma proprio perché non credo Sinceramente di aver ascoltato mai nulla del genere Almeno in Italia Ma se devo essere sincero Nemmeno in America Proprio c'è questo sound così Con i vari pitch Il beat che ha tutti quei sound distorti Cioè non l'ho mai sentito da nessuna parte Sarò totalmente sincero Andiamo con la quarta traccia Due flash Fit Sise O Sese 17 E Teistanna Vi chiedo perdono Ma non vi conosco Oh questo era uno snippet Ok Carina Non male Non mi ha fatto impazzire sinceramente Più che altro perché la parte di Freeman mi piace Poi ci sono questi due che a quanto avete sentito anche voi sono inglesi o comunque americani Insomma hanno rappato in inglese Che non m'hanno detto granché Cioè non ironicamente Riesco più ad ascoltare Freeman su questa wave Che rapper americani Perché mi sembrano tutti le copie di copie Quindi boh non m'hanno detto granché Non m'hanno fatto impazzire Arriviamo a sport mode Ultima traccia Ok Mamma che sound Fatti pure qua il beat Margiela 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 Is the new Balenci 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 di Uzi Comunque questa già la conoscevamo Era una hit E lo è ancora chiaramente E credo che sia insieme a che faresti La più bella della Respawn Edition O almeno quelle che mi sono piaciute di più Cosa dire dell'intero progetto Ovviamente molto più che promosso Nel senso che su 5 tracce Alla fine una mi ha lasciato un po' Mezzo mezzo così Le altre 4 mi sono tutte piaciute Che faresti a sport mode Addirittura le definirei hit Ma anche Geko è una bomba La produzione di mods è sempre impeccabile In ogni traccia Devo dire che loro due hanno trovato proprio uno stile unico E sono molto affiatati E secondo me anche in futuro Se continuano a lavorare così Possono fare davvero delle grandi cose Visto che abbiamo finito subito la reaction Volevo fare anche un piccolo discorso Un po' più personale Su diciamo Frima nel suo sound Allora È littissimo Nulla da dire C'è un solo un piccolo Difettuccio Che poi non lo definirei così Ma vabbè Queste tracce Prese come singoli Sono tutte hit Però quando vanno a comporre un progetto Che sia mainframe Ma anche questa respawn edition Diciamo che non ho trovato un filo conduttore tra di loro Quindi quello che secondo me loro ora devono incominciare anche a fare E a vedere le cose un po' più grandi Ovvero di non reccare traccia per traccia Ma anche di vedere le cose un po' più dall'alto Nel senso di vedere tutto magari l'insieme Che può raggruppare un album E di conseguenza creare anche qualcosa più di omogeneo Di traccia in traccia Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa respawn edition? Vi è piaciuto mainframe? Cosa ne pensate di Freeman? Dei bit di mods? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti Se il video vi è piaciuto Mi invito come sempre a lasciare un mi piace Nel caso in cui non foste iscritti al canale Iscrivetevi Mi raccomando In descrizione trovate tutti i miei link Le mie playlist Condividete questo video con quanta più gente volete E potete E noi ci vediamo ad un prossimo Slat E noi ci vediamo ad un prossimo